Qualunque sia la soluzione di questa crisi, tutti chiedono un cambio di passo al governo che verrà, in quale direzione? Guardi, io le posso dire questo, l'Italia finalmente dopo tantissimi anni è ritornata al centro della discussione europea, un'Europa che sicuramente ha un futuro diverso, un futuro migliore di ripartenza, che dà un grosso aiuto all'Italia, è stata una sfida anche del Premier Conte riuscire a portare l'Italia al centro della discussione europea, quindi quello che noi adesso dobbiamo fare è portare avanti gli temi che sono scaturiti fuori dal recovery plan e portarli avanti con una certa responsabilità. Ma qualcuno non è stato forse troppo testardo nel non prendere atto che il tempo era finito, si poteva evitare di spezzare la corda ed arrivare ad un vicendamento di governo diverso, fatto in un altro modo? Ma guardi, io non entro nel merito di quelle che sono le azioni fatte da alcuni leader di partito, io posso solo dirle che sicuramente una crisi del genere gli italiani non la possono capire, non la possono capire perché gli italiani in questo momento hanno obiettivi diversi, hanno anche delle problematiche da gestire e quindi una crisi innescata così improvvisamente in una situazione pandemica disastrosa è stata veramente poco credibile anche dal punto di vista degli italiani. Segnali di tensione e difficoltà in Ciampi se ne vedevano già da settimane e forse quello più grosso riguardava proprio il recovery plan e la sua gestione, ricordiamo che addirittura all'inizio Conte era partito con una mega struttura, con 6 manager, 300 funzionari, è stato questo il nodo che ha fatto inciampare l'esperienza del Conte Bis? Ma io non credo assolutamente che sia una gestione di Conte ad aver fatto inciampare il Conte Bis, credo semplicemente che c'erano degli interessi di un leader di partito che pian piano sono stati tirati fuori e hanno fatto cadere il governo portandolo in crisi. Il Presidente Mattarella lavora con molta attenzione e pazienza, Tabacci che è un politico di lungo corso afferma che si deve dire messa con i frati che ci sono, basta questo per risollevare l'Italia o serve altro? Ma io le dico che Conte ha scelto qualche giorno fa di parlamentarizzare la crisi proprio per questo motivo, proprio per fare un appello alle responsabilità. Adesso diciamo che dobbiamo tentare di capire verso dove si andrà e sicuramente la cosa più importante è capire se ci sono dei colleghi parlamentari che decidono realmente di portare avanti un progetto iniziato di reale importanza e soprattutto di fondamentale ricrescita e rilancio del Paese. Come dicevamo prima, come diceva anche lei, il tema principe adesso è il recovery plan. L'Europa già mette i suoi paletti e chiede all'Italia riforme su giustizia, pubblica amministrazione e pensioni. Sono condizionalità accettabili voi che ad esempio avete rifiutato il MES? Guardi, noi una cosa importante da dire è che in questo momento non abbiamo bisogno di ricorrere al MES e quindi va assolutamente scongiurata l'ipotesi di arrivare a richiedere il MES in Europa. La cosa che bisogna dire invece è che andiamo assolutamente nelle linee di quelle che sono le idee dell'Europa sul recovery plan, perché noi lavoreremo tantissimo alla giustizia, ad un'innovazione anche del processo della giustizia, anche dal punto di vista digitale e soprattutto anche di tutto quello che concerne le infrastrutture, la transizione ecologica, l'inclusione sociale, la salute, la salute anche nel campo tecnologico. E naturalmente c'è la questione occupazione che è la più grande preoccupazione per evitare, scansare il rischio di uno tsunami sociale. Si conclude, va a conclusione l'esperienza dei navigator, qualcuno dice essere stato un fallimento da 180 milioni. Ma guardi, si tenta sempre in realtà di dire che tutto quello che si è fatto è un fallimento, è una narrazione che viene data spesso anche per sminuire il lavoro e l'impegno che si sta facendo con tanto onore e con tanta anche voglia di fare e di fronteggiare l'emergenza. Io posso dirle che sul fronte navigator sicuramente ci sono delle interlocuzioni accese, attive, proprio per tentare di capire quali sono le soluzioni migliori, ma io non le assolutamente le posso scongiurare il fatto che lo si consideri un fallimento. E il Parlamento in questa situazione così drammatica deve, dovrebbe correre, sono fermi certinaia di decreti attuativi, le misure di semplificazione per le infrastrutture, quelle addirittura per i ristori dello scorso anno, come se ne esce? Noi stiamo continuando comunque a lavorare all'interno del Parlamento per quello che chiaramente è l'ordinaria amministrazione. Abbiamo a cuore moltissimo i temi, soprattutto sui ristori. Io vengo dalla Commissione Attività Produttive e quindi abbiamo una particolare attenzione a tutte quelle imprese e attività produttive che sono lì, che hanno faticato in questi mesi e che hanno tutto il nostro focus e la massima attenzione su di loro. È chiaro che non perderemo assolutamente questa particolare attenzione, porteremo avanti i ristori come tutte le altre misure a loro supporto. E a proposito di ristori e di altre forme di sostegno al reddito, 1 milione e 200 mila lavoratori aspettano la cassa integrazione anche se l'ISMIS smentisce i ritardi. Si rischia una catastrofe sociale? Guardi, io sono uno di quelli che ha presentato un'interrogazione parlamentare per far luce un pochettino su alcune vicende. Io sono siciliano e quindi anche in Sicilia. Noi vediamo che ci sono anche le casse integrazioni straordinarie dove anche le regioni hanno la loro competenza e diciamo che purtroppo abbiamo dovuto far fronte a tanti ritardi e anche gestiti in un certo modo dalle regioni e quindi c'è sempre stata un'attiva interlocuzione con le regioni per far fronte a questo problema e tentare di supportare anche loro nell'erogazione come ricordo anche nel decreto rilancio fu fatto che dammo la possibilità come Stato di anticipare le casse integrazioni del 40% in maniera da accelerare i tempi e aiutare i cittadini. Altro tema bollente, la rottamazione di 50 milioni di cartelle esattoriali in arrivo. Si riuscirà a fermare questa inaudita valanga di provvedimenti fissali? Assolutamente sì, perché in questo momento si sta lavorando ad un emendamento che possa integrare queste misure perché è chiaro che non ci possiamo permettere che arrivino milioni e milioni di cartelle esattoriali ai cittadini in un momento così delicato. Governo e Banca d'Italia hanno collaborato per mettere a fuoco un po' i dati anche della pandemia economica e Banca d'Italia prevede disastri per l'economia italiana dopo il meno 9,2% del 2020 si immagina un più 3,8% contro il 6% previsto dal governo sempre che si fermi la pandemia, i consumi sono crollati di almeno il 33%, che cosa bisogna fare? Io penso che quello che bisogna fare è sicuramente fronteggiare l'emergenza con il massimo dell'impegno. Noi l'impegno lo scriviamo, lo mettiamo per iscritto all'interno di quello che è il nostro piano di ripresa e resilienza del nostro Paese, una ripartenza, quindi parlo del piano del recovery plan. Lì c'è tutto quello che noi intendiamo fare, come dicevo prima, sull'industria 4.0, sull'innovazione digitale, sulla salute, sull'inclusione sociale, sul rilancio delle infrastrutture, quindi c'è tutto un discorso che stiamo mandando avanti sull'istruzione, la ricerca. Vaccini, che idea si è fatto lei di questo pasticcio che attraversa l'Europa, coinvolge anche l'Italia sui ritardi accumulati? Le dico che innanzitutto sono orgoglioso del mio stato e della gestione italiana delle vaccinazioni perché proprio qualche settimana fa abbiamo raggiunto il milione di vaccinati e questo è stato importante perché eravamo i primi in Europa ad aver vaccinato il numero più alto di persone possibili. In realtà quello che sta accadendo adesso è che c'è una piccola problematica che bisogna gestire sui ritardi dei vaccini che sono dovuti non ad una gestione nostra italiana, ma purtroppo a dei ritardi che ne sono scaturiti dalla gestione delle due multinazionali a cui ci siamo affidati. In questo anche il Commissario Arcuri ha chiesto più chiarimenti, la Commissione europea si è espressa a nostro favore chiedendo dei chiarimenti alle multinazionali, quindi c'è questa fase di interlocuzione continua e si spera di fronteggiarla al meglio e che si possa risolvere perché noi abbiamo a casa dei cittadini che hanno bisogno di risposte e soprattutto di un supporto.